Questa tecnologia che sta arrivando, che confonde le menti, perché è come un boomerang, no? Io provo, quante volte avete mai tirato un boomerang? Ora, onestamente, il boomerang non arriva mai da quello che lo tira. Lo lanci, solo qualche australiano, ma non è mai successo che un boomerang lo tiri e torni lì. Il boomerang lo tiri e poi va da un'altra parte. Il boomerang lo tiri e poi va da una parte.